Oggi abbiamo compiuto un atto molto importante, abbiamo sottoscritto e firmato un documento sul quale si è lavorato per lunghe settimane nel quale il Coricom ha una funzione innanzitutto di coordinamento, ma è un documento che vedrà il coinvolgimento della Commissione regionale pari opportunità, dell'ordine dei giornalisti, del sindacato dei giornalisti e di altre strutture che esistono sul territorio e altre si aggiungeranno con un obiettivo molto chiaro, riaffermare la parità di genere, batterci contro i linguaggi che fanno discriminazione nei mezzi di comunicazione e di informazione e affermare una politica di nuovi diritti per gli uomini e per le donne. La proposta operativa che noi abbiamo avanzato questa mattina è quella di dotare proprio un organismo operativo che possa attuare questo protocollo, una sorta di osservatorio sui mezzi di informazione, sulla comunicazione, sul linguaggio usato nella narrazione delle violenze, delle situazioni che in qualche modo vedono coinvolte le donne e su cui noi ci stiamo battendo ormai da diversi anni per cercare di dotare i nostri colleghi, i giornalisti di un riferimento, un quadro culturale diverso rispetto ai stereotipi che fino ad oggi hanno caratterizzato invece la narrazione sbagliata delle violenze e quant'altro. Attraverso questo protocollo si intende con una comunicazione attenta al genere e responsabile contrastare tutti questi fenomeni di discriminazione e nello stesso tempo cercare di valorizzare e dare un contributo per la crescita e la sensibilizzazione nei confronti della collettività, del rispetto dell'identità di genere con riferimento sia al linguaggio che all'immagine femminile che molte volte viene prospettata in una maniera non consona.